Grazie Ah beh così è infinito La fastidio? La fastidio? E' meglio che non vedi niente 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 Poi è relativamente fissa Ok Ok Azione Non guardare mai la macchina Sai che faccia i tuoi Pensa alla tua testa Brava adesso l'altro Guarda adesso l'altro Esatto Esatto Un po' di lì Sì Sì Non indurì però Oh Oh Ok questo passo così Il panno sarà sfugato Guarda Davide Sì Guarda Davide Aspetta E c'è un contrapetto Davide la prova Guarda fuori dalla finestra Scusami Davide bandiera del tutto con la luce Chiudimela un attimo Leva Bello dal basso così Bello dal basso così Fai posizione Laila La posizione viene molto meglio L'hai chiuso ancora? Ok Ok Qua c'è un lato bianco sotto Tito un secondo che stabilizza E per me è Acqua Acqua Buona Acqua Vai verso il vetro Vai verso il vetro Vai verso il vetro Dai No no mi muovo In avanti o la terra? La terra va d'attorno a lei Davide invece per noi Adesso Questo è totalmente su di te Quindi tutto il gesto del libro Ti aiuta Perciò ci fa cambiare anche l'espressione Ma adesso sta pure addosso Acqua Ci sei lì? Per me è buona Azione Azione Per me è Per me è Per me è vera Ricch Davide Azione RIC DAJ! RIC DAJ! dai picchiamo i tonci guarda se non mi vuole così sentire che non si sa mai mi basta la mia forza si sa mai la mia forza quella con manici rossi dentro ci stanno varie tipologie scotch quella che ti ispira di più attenzione stai girando facciamo questo appena attivazione un paio di secondi e fai la scena di odorata dai appena lui comincia a fare qualche passo indietro vai azione vai questo abbiamo la direzione idem larga e stretta la colazione l'abbiamo appena fatta grazie 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 grazie